Ben trovati cari amici, benvenuti all'interno del nostro nuovo canale Zenefix Official Channel, il canale dedicato al mondo del trading e soprattutto il canale dedicato al mondo del copy trading. Come già avete potuto vedere dalla precedente puntata, dal precedente appuntamento, ecco soprattutto nei nostri appuntamenti diamo soprattutto visibilità, andiamo a conoscere tutti i vari fornitori di strategia e oggi è davvero un piacere avere qui con noi un top player del trading, oserei dire e mi piace a questo punto invitarlo direttamente in diretta con noi, diamo il benvenuto ad Antonio Mangano. Ciao Antonio, ben trovato. Salve a tutti, grazie Michele per l'ospitalità. Ciao Antonio, è davvero un piacere averti qui con noi, ti definivo prima uno dei top player del mondo del trading, perché insomma per chi non ti conoscesse, ma sono davvero pochi i trader che non ti conoscono, hai vinto anche diversi contest, sei un trader davvero affermato con le tue strategie, ma ecco adesso avremo modo di conoscerti meglio e cercheremo soprattutto di trovare anche i lati più nascosti di Antonio Mangano. Intanto ecco vorrei partire proprio dalla persona di Antonio Mangano, so che sei oltre che un trader, so che sei anche un ex atleta, quindi soprattutto in questo periodo di Olimpiadi sarei molto contento dei grandi risultati che ha avuto l'Italia, giusto Antonio? Sì, è stato un periodo veramente molto emozionante per me, perché io praticamente sono cresciuto con lo sport, ho praticato lo sport a livello agonistico per oltre dieci anni, quindi è stato un periodo molto emozionante. Tra l'altro ci sono anche dei parallelismi tra trading e sport e proprio grazie allo sport ho avuto diciamo la mia dose di disciplina anche nel trading. Ecco hai detto una parola importante, quindi sei già entrato nel merito del nostro discorso disciplina. Ecco noi come ben sai all'interno del nostro appuntamento andiamo a a conoscere tutti i vari fornitori di strategia e a proposito di strategia del copy trading e hai appena accennato il fatto di essere molto disciplinato, vogliamo cominciare a conoscere qual è la tua strategia che hai a mercato. Intanto diamo il nome che si chiama BPFX Apollo, ovvero Bologna, Padoma, Firenze, X, Apollo, diamo il nome preciso così tutti i nostri amici investitori appunto possono trovare la tua strategia sui nostri canali social ovvero zenefixofficial.com, questo è il nostro sito ufficiale e poi insomma diamo tutte le informazioni in merito. Intanto ecco comincia a parlarci un po' della tua strategia, da quanto tempo è a mercato questa strategia? Allora questa strategia è a mercato da marzo 2020, quindi parliamo di uno storico di ben oltre un anno e attualmente ha questo tipo di performance che trovate anche a schermo, quindi parliamo di oltre il 25%, ed è una strategia che ha avuto diciamo un certo cambiamento nel corso della sua esistenza, poiché poi c'è stato una sorta di cambiamento di money management nel corso del tempo. All'inizio era molto aggressiva, poi pian piano si è deciso di trasformarla in una strategia molto conservativa, quindi è una strategia che attualmente punta comunque a fare delle performance abbastanza tranquille nell'ordine dei 10-15% all'anno con un drawdown altrettanto tranquillo e nell'ultimo anno all'incirca siamo attorno al 3-4% di drawdown. Beh insomma hai dato praticamente quasi tutte le informazioni, volevo farti tutte queste domande ma mi hai preceduto, ma comunque non importa e volevo subito chiederti è una strategia manuale oppure una strategia automatica Antonio? Allora questa strategia è frutto di studi statistici, io sono una persona abbastanza meccanica quindi ricerco delle evidenze statistiche sul mercato grazie a degli automatismi, però poi quando si tratta di andare al mercato quindi di fare operatività è esclusivamente manuale quindi questa qui sovraimpressione è una strategia manuale basata però su delle evidenze statistiche quindi su delle informazioni oggettive ricavate da sistemi automatizzati. E so che tu sei un amante appunto delle strategie automatizzate o mi sbaglio? Sì sì, se proprio vogliamo dare una definizione giusta, strategie meccaniche quindi che hanno delle regole ben precise, backtestabili e che possono dare delle informazioni oggettive quanto meno nel passato, anche se poi sappiamo che il passato non è garanzia per il futuro. Di niente, esattamente. Ecco su quali asset trada la tua strategia? Questa strategia entra al mercato esclusivamente su DAX e NASDAQ. Inizialmente aveva come sottostante esclusivamente il DAX, poi si è deciso di intervenire anche sul NASDAQ perché poi man mano ci siamo resi conto che comunque anche sul NASDAQ esistono delle evidenze statistiche molto simili anche a quelle del DAX e sfrutta sostanzialmente dei bias statistici a Rialto. Quindi è una strategia che va esclusivamente a Rialto. Ecco, se possiamo chiedere qualche piccolo consiglio, qual è effettivamente la strategia che viene utilizzata all'interno di questa strategia? Il trucchetto, tra virgolette. Sì, come dicevo prima, si tratta di un bias statistico. Sostanzialmente, detto in parole povere, sono dei calcoli statistici in cui si vanno a verificare delle performance medie delle singole fasce orarie per poi evidenziare quelle fasce orarie che performano medio in una determinata direzione. Quindi volendo sfruttare il trend di lungo periodo dell'indice azionario a Rialto, si va quindi ad identificare una fasce oraria della giornata più rialzista della media. Quindi sfrutta un bias, una tendenza marcata rialzista in determinate fasce orarie. Ecco, avendo a mercato, mi dicevi, la strategia da diverso tempo, immagino abbia tanti che copiano la tua strategia. Quanti clienti attualmente hai? Guarda, attualmente vedendo anche sulla strategia su C3 del copy, possiamo notare 33 copiers, ma chiaramente questi copiers sono anche dei conti demo, quindi non sono proprio… Certo, ricordiamolo che comunque per tutti i nostri amici che ci seguono è possibile anche copiare in demo le varie strategie proprio per backtestare, se vogliamo, in maniera personale, effettivamente quella che poi potrebbe essere la strategia per il futuro di un investitore, e quindi scegliere proprio la BPFX Apollo, quindi potete anche tranquillamente, vi dicevo, testarla in demo. Ma ecco, mi dicevi, continuo Antonio, perdonami se ti interrompo di tanto in tanto, però sono informazioni utili che dobbiamo dare a tutti i nostri amici che ci seguono. Sì, e quindi, che dire, la strategia comunque si può trovare con molta facilità su C3 del copy, digitando BPFX Apollo, e in questa schermata qui si possono trovare tutte le metriche del sistema, quindi a partire dal capitale minimo, dal profit factor, dalla profittabilità del sistema, al drawdown sul balance storico, per poi andare anche più in basso e trovare, diciamo, il numero di copiatori e coloro che stanno copiando in reale la quantità di fondi in copia. Perfetto. Si possono trovare tutte queste informazioni grazie al sito di C3 del copy. Ricordiamolo, dunque, il nome della strategia BPFX Apollo, dove potete vedere poi tranquillamente, come abbiamo appena visto a monitor, tutte quelle che sono le informazioni inerenti proprio a questa strategia. Allora, quali sono gli obiettivi e i rischi della strategia? Abbiamo parlato prima dei rischi molto contenuti, ma gli obiettivi quali sono? Sì, come dicevo prima, questa strategia ha avuto un cambiamento in corso d'opera, quindi, come dicevo, appunto, ha una gestione dei rischi attualmente molto, diciamo, tra virgolette, a basso rischio perché è una strategia che non supera la leva 1, quindi la somma di tutte le entrate, le operazioni a mercato non supera la leva 1, e quindi, storicamente, almeno nell'ultima parte dello storico, dove appunto c'è stato questo cambiamento di money management, abbiamo all'incirca un 3-4% di drawdown storico e un'aspettativa di almeno il 10-15% di performance all'anno, annualizzato. Ottimo, davvero, davvero interessante. Ecco, parliamo un po' di costi, ci sono dei costi per aderire a questa strategia? L'unico costo è praticamente, non definirei costo, ma è semplicemente una performance fee, che non è altro che, diciamo, la percentuale che viene detratta dalle performance per, diciamo, per chi è che va a gestire questa strategia, quindi parliamo del 30% sulle performance. Ecco, quindi fondamentalmente non ci sono costi da sostenere, in pratica. Non ci sono altri costi di management fee e di volume fee, non esistono, e lo vediamo anche nei dettagli della strategia. 0% di management fee e 0 dollari per il volume. Ottimo, ottimo davvero. Allora, a questo punto, insomma, Antonio, per cercare di convincere, se vogliamo, tra viricolette, ho usato forse una parola un po' troppo grossa, a convincere, ma comunque, ecco, per far provare, ecco, ora ho trovato il termine più adatto, far provare la tua strategia a tutti i nostri amici che ci seguono in questo momento, qual è la frase d'effetto che Antonio Mangano lancia a tutti gli investitori all'ascolto? Guarda, io sono una persona di poche parole e tendo ad agire con i fatti. Quello che posso dire è che, comunque, diciamo che il segreto per durare sul mercato è avere un rischio basso, quindi molte volte si parla di strategie molto spinte che purtroppo durano pochi mesi. Quindi l'obiettivo di questa strategia è di durare molti anni con delle performance, però, diciamo, umane, per virgolette. Ecco, permettimi, sì, di consigliarti magari una frase d'effetto, chi mi ama mi segua, potrebbe essere una frase d'effetto per la tua strategia, Antonio. Noi siamo qui. Noi siamo qui, bene. Noi siamo qui, come dice anche il buon Vasco Rossi. Allora, Antonio, ci dai tutti i tuoi contatti per seguirti sui social e seguire soprattutto quella che è la tua strategia? La strategia, come dicevo prima, è facilmente ricercabile sul sito di TopFX sezione copy, Ctrader copy. La strategia, come dicevamo, si chiama BPFX Apollo. Il nome dello strategy provider ugualmente è sotto il nome di BPFX Apollo. Poi, chiaramente, per quanto riguarda me e la mia persona potete trovarmi facilmente sui social network con il mio nome Antonio Magna. Perfetto, credo abbiamo dato davvero tutte le informazioni utili a tutti i nostri amici investitori che ci stanno seguendo, proprio per indurli a fare una scelta responsabile e consapevole appunto per i loro investimenti. Bene, Antonio, è stato davvero un piacere fare queste piccole quattro chiacchiere in nostra compagnia. Grazie davvero per essere stato con noi e quando vuoi le porte di ZenFX Official Channel sono aperte, anzi sono spalancate per il nostro top player di oggi. È stato davvero un piacere, Antonio, averti qui con noi. Grazie. Grazie mille, onoratissimo di essere ospite a ZenFX Official. Un saluto a tutti. Grazie allora dunque ad Antonio Mangano, ospite vi dicevo del nostro appuntamento. Grazie ad Antonio per aver condiviso con noi la sua strategia, ricordiamolo, BPFX Apollo, che potete trovare sui canali di ZenFX Official Channel. Allora, io vi ricordo intanto tutti i nostri canali ufficiali, potete digitare sia su Instagram che su YouTube, oggi ho studiato, ZenFX Official Channel, oppure potete digitare il sito www.zenfxofficialchannel.com e quindi troverete tutte le informazioni utili, inerenti, proprio per chi volesse appunto cominciare a fare trading di copiatura, come si suol dire. Bene, è stato davvero un piacere avervi qui con noi, l'appuntamento è rimandato alla settimana prossima con un altro ospite, un altro grande del trading, che è insomma un altro fornitore di strategia che vi farà sicuramente piacere condividere con tutti quanti noi. Bene, è stato davvero un piacere, ancora una buona estate a tutti e buon trading. Grazie a tutti.